Ecco Corso, riprendiamo dove siamo lasciati. Una carenza investigativa palese, perché è impossibile in quell'ora del pomeriggio, dove le giornate sono già più lunghe, una persona conosciuta come la signora, nessuno ha visto niente. Poi c'è anche qualche altro particolare da questa inchiesta, tu che ne sai? Io quella sera sono arrivato, dopo pochi minuti che era stato scoperto il corpo della signora, era stato dato l'allarme, sono arrivati i carabinieri, anche la polizia, e la prima impressione è stata proprio quella, trattandosi di una via stretta, con a lato tutte queste villette, con vie di fuga per un'auto, diciamo, difficilmente ipotizzabili, se non da un verso o dall'altro. Ho sempre ritenuto che le indagini sono state carenti, sono state carenti perché, ripeto, sono state indirizzate verso un'unica soluzione. Mentre anche il quartiere conosce bene la situazione, conosce anche il fatto che si avvicina a una zona frequentata da tanti tossicodipendenti, perché si trova a un chilometro di linea d'area dall'ospedale, dove transitano purtroppo, cioè il CERT, transitano tante persone che poi magari hanno il vantaggio di poter portare a termine un furto per reperire i soldi e poter comprare la dose quotidiana, ma potrebbe anche essere qualcos'altro. Certo è che si è continuati a seguire questa pista, quasi con la certezza che tra quegli albanetici fosse l'assassino della povera Zelli e per un anno non si è andata a cercare su un'altra parte, se non qualcosa per quanto riguarda il familiare, nel senso i familiari, ma una pista che ha portato a nulla subito. Con la conclusione che poi questo delitto rimane... È un altro delitto insolutico, ma purtroppo devo dire che a Terni ce ne sono altri, tra cui uno clamoroso è accaduto, Amelia con una povera ragazza scomparsa del nulla, o tanti altri. Se le indagini non vengono fatte bene all'inizio c'è poco da fare. Purtroppo quella sera, io lo posso dire senza problemi, notai l'assenza di colui che doveva coordinare le indagini, che era il sossiduo procuratore. E poi le indagini, quando partono le prime 48 ore, sono fondamentali secondo gli inquirenti. Secondo proprio ormai... Esatto, secondo proprio una regola delle inquirente. Adesso passiamo dai crimini commessi all'interno delle abitazioni, tra rappine all'interno di ville e abitazioni per quelle che poi sono delle aggressioni criminali vere e proprie con degli altri morti. Ecco, il caso che vedremo dopo, fra qualche secondo, è quello di un altro rumeno, un giovane rumeno che durante una serata in discoteca, dopo una lite per aver approcciato una ragazza, è stato brutalmente accoltellato da un suo conterraneo, complice un nostro conterraneo. Ecco, puoi partire col filmato, grazie. Terni è la notte tra il 7 e l'8 dicembre 2015. Oltian Nela, operaio di nazionalità albanese di 21 anni, viene brutalmente aggredito da un gruppo di quattro persone, tre ternani e Mariel Miesch, quello che viene considerato l'esecutore materiale della coltellata. Il giovane operaio era stato ritrovato agonizzante da alcuni ragazzi a notte fonda, che hanno dato l'allarme chiamando il 118. Le sue condizioni sono sembrate fin da subito disperate. La coltellata era stata inferta con una lama di 6 cm estremamente affilata. Le condizioni di Oltian sono sembrate subito disperate. La lacerazione prodotta dalla perforazione non era stata ampia, ma si era verificata un'emorragia interna con varie conseguenze per la vittima, che ha lottato tra la vita e la morte all'ospedale di Terni, dove poi ha perso la vita perché le ferite riportate erano davvero troppo gravi. Secondo gli inquirenti, i due giovani avevano un conto in sospeso dopo uno scontro che era avvenuto prima dell'aggressione in una nota discoteca di via Piemonte. Dietro ai rancori, forse è un'occhiata di troppo ad una ragazza del gruppo degli aggressori, che è stata quindi poi vendicata fuori dal locale, con quella coltellata risultata mortale. Il sostituto procuratore di Terni, Raffaele Pisiri, ha valutato quale ipotesi di reato contestare al connazionale 21enne della vittima, l'aggressore materiale, omicidio condolo eventuale o omicidio preterintenzionale. Il processo si è celebrato nel giugno 2016 davanti al GUP Simona Tordelli, un processo con rito abbreviato chiesto dalla difesa di Mariel Miestri, il ventenne albanese accusato dell'omicidio di Oltiannella. Il rito alternativo era stato chiesto dall'avvocato Massimo Proietti dopo che la procura aveva ottenuto il giudizio immediato. La difesa ha svolto indagini difensive anche attraverso una perizia redatta dal medico legale Mauro Bacci, dalla quale era emerso che l'arma utilizzata dal presunto omicida non era idonea a provocare la morte della vittima e che questa sarebbe stata la conseguenza di una tragica casualità. Il GUP di Terni ha condannato a 10 anni e 8 mesi di reclusione con il rito abbreviato Mariel Miestri. Il PM aveva chiesto alla condanna 16 anni dell'imputato, ma il giudice ha riconosciuto la prevalenza delle attemmanti generiche sull'aggravante dei futili motivi. Si tratta di una sentenza equilibrata, ha commentato il difensore dell'imputato Massimo Proietti, il legale ha sempre sostenuto che quell'arma, un coltello, non era idonea a provocare la morte della vittima. La pena non è alta ma è stata confermata l'accusa di omicidio volontario, ha detto invece Francesco Macchiangeli che insieme alla collega Giovanni Scarcia ha assistito i familiari della vittima. Gli altri tre ragazzi coinvolti nella rissa che facevano parte del gruppo dell'aggressore hanno ottenuto da parte della procura la riformulazione dell'ipotesi di reato di favoreggiamento e concorso intentato a omicidio in rissa aggravata. Per uno di loro ha disposto l'ordinanza restrittiva che lo obbliga a rimanere in casa dalle 21.30 alle 6 del mattino, mentre gli altri due sono stati scarcerati per effetto di quello che è chiamato decreto svuotacarceri. Avogato, veici c'è da rimanere senza parole di fronte. a questi fatti? Un omicidio punito con dieci anni, un delitto che poi diventa rissa aggravata, che sta accadendo alla giustizia italiana? Se lei fosse stato l'avvocato di parte civile, come l'avrebbe presa questa cosa? Infatti risulta che abbia preso male anche in questo caso le parti offese, è chiaro. Sì, questa è una pena che indubbiamente stride con un senso di giustizia, non c'è dubbio insomma perché di omicidio si tratta. Chiaro, rispetto ai casi precedenti delle differenze ci sono e il giudizio può essere leggermente più buono fondamentalmente perché lì parlavamo poco di rapine, di situazioni del genere. Qui è una situazione contingente, però ciò non toglie che parliamo di un omicidio e di una persona che è stata uccisa in maniera particolarmente fredda. Forse quello che è sbagliato è il fatto di ragionare come se la cosa fosse meno grave perché effettivamente è un episodio che è successo sul momento e quindi in teoria dovrebbe la giustificazione anche il fatto che siano state considerate prevalenti, rattenuanti rispetto alle aggravanti che è quello che ha portato a una grossa diminuzione di pena rispetto ai 16 anni che aveva chiesto il PM, siamo scesi a 10 anni, insomma quasi 11. Il fatto quindi come se fosse ritenuto una minore pericolosità, come se il fatto fosse avvenuto per circostanze quasi estemporanee, cosa che obiettivamente risulta un po' inverosimile, nel senso che una capacità di delinquere, di uccidere con questa facilità non è, credo che non sia completamente naturale. Oltretutto è stata lasciata la persona lì, la vittima, senza nessuna forma di supporto. La cosa ha dei connotati di una certa truculenza. probabilmente si è giudicato che l'episodio fosse meno grave di altri. Tra l'altro anche questo stride, perché adesso non è fare un discorso fondamentalmente di italiani e stranieri, però probabilmente per la nostra cultura, episodi così accentuati, così violenti, proprio per quello che dicevamo, per il senso di sicurezza che si può avere, forse fanno parte meno della nostra cultura e del nostro modo di essere. Non è questione di italiani stranieri, qui sono i giudici che giudicano, sono i giudici italiani, non sono i giudici. Sì, sì, però si ragiona probabilmente, si ragiona probabilmente, cioè bisognerebbe prendere atto fondamentalmente di questa situazione che c'è pericolosità socialmente. Corso, io avrei veramente difficoltà a scrivere qualcosa sul suo. Io sono avute difficoltà, perché equiparare un coltello ad un pugno, perché questo è stato, è qualcosa che va contro ogni senso di civiltà, perché questo ragazzo girava con un coltello, è andato in discoteca con un coltello, è stato protagonista insieme ad altri cinque ragazzi di una violenta aggressione nei riguardi di un ragazzino indifeso, magro, esile, di 18 anni e oltretutto poi lo ha inseguito, ha continuato a litigarci, ha preso il coltello, anche se poteva, il ragazzino poteva comunque essere praticamente, essere reso in nuoco da uno spintone, perché è da qualunque tipo di altro tipo, ha preso un coltello e ha inferto una coltellata. Poi che ci sia un avvocato che dica che quella lama era non sufficientemente lunga per raggiungere organi vitale mi sembra una grande corbelleria, purtroppo è stato reputato che fosse così ed è stato giudicato colpevole ma con le attenuanti che hanno fatto sì che ci sia stata una sentenza davvero ridicola per me. Prima di passare all'autore, adesso devo fare un'altra domanda all'avvocato Ceconelli. Avvocato, come si può difendere e trovare nelle cause quelle che poi ha trovato l'avvocato che ha difeso questo ragazzo? Cioè come si può dire che una lama di quei livelli poteva non uccidere o non era idonea per uccidere? Cioè allora il diritto alla difesa è sacro santo, ma si può far passare un colpevole per innocente. Allora qui entriamo su un discorso… Cioè dove inizia l'etica e dove la… Esatto, su un discorso probabilmente etico e da qui nasce l'ironia sempre che si fa sugli avvocati su un discorso etico, ma l'avvocato fondamentalmente esercita un diritto di difesa e non… e il diritto di difesa c'erano tutti fondamentalmente, nessuno si può sapere… Siamo pienamente da colpevole, infatti la domanda era un'altra. Sì sì, no, chiunque ha diritto di avere questa difesa e di mettere in campo tutti gli strumenti che ci sono. In questo caso il coltello obiettivamente era un coltello di 6 cm, sì è una teoria difensiva che può essere insomma chi esce con… anch'io penso da un punto di vista etico adesso che posso parlare all'esterno dico che una persona che prende a coltello in questa maniera sicuramente istinti omicidici li ha, però è chiaro che la difesa è normale che dica che c'è ben una differenza tra un coltellino di 6 cm e portarsi un coltello a serramanico con una precisa intenzione, è una teoria difensiva inattabilissima. Voi avvocati ci siete per questo, ci dovrebbero essere dei giudici che giudicano in maniera… Sì però anche un avvocato che difende un assassino sa che… L'avvocato ognuno fa il nuovo mestiere. Sì però provare… io ho conosciuto avvocati di grosso spessore che è vero hanno difeso i criminali, però non hanno difeso i criminali che sono innocenti, hanno cercato di attenuare la pena, cioè assumendosi ognuno le proprie responsabilità, poi è sempre una questione etica come nel loro lavoro, come nel nostro. Questo è il gioco degli spinti di pena. Certo, io volevo chiedere una cosa alla dottoressa, non sembra che siano in tanti a avere bisogno dello psicologo, non solo questi giovani ma anche qualcuno che giudica questi giovani probabilmente. Diciamo che è necessaria un'attenzione a livello globale, a livello specifico, a diversi livelli, questi sono fenomeni evidentemente complessi che è difficile trattare in modo univoco. C'è una serie di componenti e di fattori di rischio che sono di tipo sociale, personale a cui è necessario dedicare un'attenzione maggiore, sicuramente lavorare in un'ottica di prevenzione primaria. Ma secondo lei si può prevenire con simili sentenze? La giustizia fa un corso lento per cui nel frattempo in questa lentezza intervengono tutta una serie di problematiche per cui sembrano esserci più possibilità di intervenire all'interno della causalità, per cui anche per le persone non sembra verosimile che ad un'azione corrisponda poi una conseguenza, si perde un po' il senso di realtà. Con questo quesito risolvibile ci vediamo fra due minuti.